Il potere del denaro sulla nostra salute, sulla nostra salute psichica. Oggi ne parliamo con un grande psichiatra, Vittorino Andreoli. Allora, professore, quanto il denaro ha un'influenza sulla nostra salute? Molto influenza in modo preponderante, poiché, vede, il denaro è diventato la misura di ciascuno di noi. Il valore nostro, valore tra virgolette, è oggi indicato da una cifra che spiega, dice chiaramente quanto denaro uno ha, denaro o i suoi simboli. Quindi è diventato un personaggio che guida la nostra esistenza. Siamo valutati e anche il nostro valore come individui, come persone è collegato al denaro. Questo ci può fare stare molto male. Ci sono studi che ci dicono che un problema economico grosso, improvviso, può portare a problemi psichiatrici importanti e anche a demenze. Vero, professore? Sì, vede, lei sa che oggi la psiche, che è l'insieme delle funzioni che emergono dal cervello, agisce sul nostro corpo. Insomma, anche l'ansia può essere un'ansia diretta, ma può essere un'ansia che noi viviamo nel corpo. La chiamiamo ansia somatizzata. E così è la depressione. Se il valore mio è legato al denaro e non ho denaro, avverto una perdita della stima di me e tendo alla depressione. Cosa accade invece in quelle patologie dove noi spendiamo in modo incontrollato? Ci sono pazienti che spendono in modo incontrollato e arrivano poi alla povertà, a problemi gravi. Sì, ma vede, il denaro ha creato la dimensione dell'inutile. Perché se io valgo per i simboli del denaro o per denaro, devo mostrare di averlo, devo spendere, devo acquistare. Non perché mi è utile, ma semplicemente perché serve a dimostrare qual è il mio potere. Che, ripeto, oggi è schematizzato come un numero, non con delle qualità. E le posso aggiungere che talmente è influente non solo su alcuni che possono ammalare. E poi vedremo che ci sono anche le malattie da chi ne ha tanto denaro. Ecco, ma là il denaro ha modificato il nostro comportamento. L'etica, vista come serie di regoli per come comportarsi, adesso è diventata guidata dal denaro. E quindi io sono buono, bravo o no, in funzione del numero, della quantità di denaro. Quali sono le malattie delle persone che hanno molti soldi? Quali sono le malattie che possono avere? Se il valore dell'uomo è il denaro, allora il potere che ciascuno di noi ha lo si misura in denaro. Se ne ho tanto divento paranoico. La paranoia che cos'è? È da una parte la tendenza a ritenersi onnipotenti. E quindi addirittura a poter dominare il proprio mondo, piccolo o grande, e gli esempi del grande ne abbiamo molto di attuali, ma anche nel piccolo mondo, perché il denaro è il mio potere. Quindi la tendenza alla paranoia. Le dico, ci sono i grandi paranoici, ma ce ne sono anche molti vicino a noi, che sono solo paranoici e solo un po' più piccoli. Professore, però il denaro rende anche liberi, perché quando non ne abbiamo siamo meno liberi di fare quello che vogliamo. E poi soprattutto le donne, per esempio, con l'indipendenza economica, hanno conquistato libertà e indipendenza. Cioè c'è anche un'altra parte della storia che è importante. La ringrazio di questa domanda, perché io dico che non sono un economista, ma che io non sono contro l'economia. Cioè l'economia è una organizzazione che è fatta attorno, come dire, è come organizzare una famiglia, una casa. Questo è anche il senso etimologico. Quindi sicuramente l'economia è una disciplina. Fra l'altro non è scientifica, è una disciplina sociale e è importantissima. Però non è possibile che sia ridotta alla gestione del denaro e che sia arrivata ad essere la mia immagine. Io lo rifiuto. E allora ho scritto un libro per dire che oltre ad una economia del denaro c'è una economia che possiamo chiamare del bene. Cioè fondata su valori, tra virgolette, che però sono valori umani. E non è possibile ridurre l'uomo a denaro. Anche perché oggi a volte il denaro influisce molto anche sui rapporti all'interno delle famiglie, sui rapporti con i figli. Chi detiene il denaro ha il potere. Cioè chi si sposa per denaro, il denaro corrompe in qualche modo. Dunque i sentimenti e il denaro. Anche all'interno di un gruppo familiare di persone che si vogliono bene, il denaro ha comunque un ruolo. Certo. Allora deve essere un mezzo per facilitare quelli che sono il senso dell'uomo nel mondo. E a dimostrare che non è il denaro è che tutti questi uomini potenti, il cosiddetto potere sulla umanità, non più sulle cose, poi sono in gara per prenderne di più, ancora di più. E quindi ecco che c'è un travisamento di tutto ciò che invece riguarda l'umano. Allora, vede, io parlo di un'economia, ma c'è anche un'economia dell'esistenza. C'è un'economia che riguarda i sentimenti, il rispetto dei sentimenti. Cioè, quindi, voglio dire, l'economia è fondamentale, ma non è possibile che tutto sia legato a questo strumento, a questo mezzo utile. È nato il denaro per facilitare gli scambi economici. Nella Grecia antica, siccome cominciavano a girare, non era possibile più il baratto. E allora hanno creato il denaro. E pensi, era addirittura uno strumento sacro, perché non c'erano le banche, veniva tenuto nei templi di Apollo. Allora, adesso è diventato uno strumento tutt'altro che sacro, insomma. E quindi sta incidendo sul nostro comportamento fino a deumanizzarsi. Io difendo l'umano. E certamente è un problema che riguarda tutti l'economia. Ci sono alcuni che stanno male. Pensi, la povertà. Ma secondo il denaro è appunto una nullità, addirittura una colpa sociale. Ma invece ci sono tanti elementi. Ci sono delle categorie professionali che sono male pagate, hanno poco denaro, ma sono fondamentali. Mi permetta di citare gli insegnanti, per esempio, dal momento che contribuiscono all'educazione dei nostri figli e dei miei nipoti, insomma. Dunque, puntiamo a un'economia del benessere e ringraziamo molto il professore Andreoli per questa carrellata di informazioni interessantissime sul valore del denaro, che va assolutamente ridimensionato. Grazie, professore. Grazie mille. Grazie, grazie a lei.